E' guerra, è scontro tra Romelu Lukaku e il Chelsea e voglio subito riportarvi questa indiscrezione, questa che sarebbe una bomba di mercato. Ve la riporto subito. Allora, Romelu Lukaku è stato contattato quattro giorni fa dalla proprietà rossonera, dal Milan, complice gli ottimi rapporti col Chelsea, complice gli ottimi rapporti con l'agenzia Roc Nation che gestisce la carriera e il Romelu Lukaku potrebbe diventare un calciatore a rossonero. Secondo quanto mi risulta, mi è stata confermata proprio questa mattina, ecco perché domenica 25 giugno subito alle 10 e un quarto, subito il video, perché il Milan avrebbe formulato un'offerta con questi termini, 32 milioni di euro con prestito con obbligo di riscatto. Quindi il Milan pagherebbe l'anno prossimo 32 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Romelu Lukaku, con un contratto quadriennale a 10 milioni in etta stagione con ben 6 pagati dal Milan e gli altri 4 pagati dal Chelsea. Almeno questo per i primi due anni. Questi sono i dettagli che abbiamo raccolto noi di rubrica rossonera. Il giocatore è a far ricordi con il management dei Blues, con il management del Chelsea. Chelsea che sarebbe spazientito dai continui rifiuti del calciatore verso l'Arabia Saudita. L'offerta dell'Arabia Saudita era un'offerta importante sia per il club inglese sia per il calciatore. Il giocatore belga ha rifiutato più volte rispetto al mittente e alle offerte perché il giocatore vuole continuare a giocare in Europa, vuole continuare a sentirsi un giocatore di prima fascia, di primo livello. Ecco perché ha rifiutato l'Arabia Saudita. E il Chelsea spazientito da questo, spazientito dall'iniziale richiesta di Romelu Lukaku di tornare in prestito gratuito all'Inter. Unica probabilità, unica possibile offerta dell'Inter in questo momento non avendo liquidità. Ecco perché la candidatura, l'ipotesi Milan potrebbe prendere corpo. Ecco perché ancora l'Inter si sarebbe mossa andando a prendere Turam. L'Inter che deve ricostruire l'attacco orfano di Lukaku, orfano di Adin Dzeko che è andato in Turchia. Ecco perché l'Inter si è mossa subito su Turam e vedremo se il Milan riuscirà a battere la concorrenza dei Cugini, dei Nerazzurri. Questa è la notizia, quindi prestito con obbligo di riscatto a 32 milioni di euro, operazione condotta così con un pagamento dilazionato e con un ingaggio in cui il Chelsea se ne farà carico insieme al Milan per liberare il calciatore, per liberarsi dell'attaccante belga. Visto che, ricordiamo, il Chelsea è una rosa davvero lunghissima, tanti esuberi e proprio con il Chelsea Milan potrebbe imbastire anche altre trattative su tutti. Il nome di Christian Pulisic, giocatore statunitense che piace sia per motivazioni tecniche, tattiche allo staff tecnico rosso-nero, ossia piace tanto al Redbird perché potrebbe veicolare attraverso un giocatore rappresentativo come Pulisic l'idea e strategia di business del Milan, anche nello Stato americano. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa notizia a mezza e come sempre cliccate like e iscrivetevi anche a YouTube di Rubrica Rossella. Seguiteci perché ogni giorno tante notizie, tante informazioni e indiscrezioni sul nostro amato Milan.